Il sindaco di Ragusa Federico Peccitto ha diffidato l'ASP in merito all'avviso sul trasferimento di personale dal reparto di malattie infettive di Ragusa a quella di Modic. Il managericò chiarisce che si tratta di una procedura di riorganizzazione temporanea solo per il periodo estivo. Ha stuprato una donna dopo aver fatto eruzione nella sua abitazione per derubarla. È successo a Catania dove è stato arrestato per violenza sessuale e rapina nelle zone aggravate Sebastiano Bazzamo. Sono cinque comuni blecchiamati al voto domani. È scattato la notte scorsa il silenzio elettorale in vista della giornata di voto di domani. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23. Presentato questa mattina nel chiostro di Santa Maria del Gesù Ammo di Calte, il concorso internazionale d'Anti di Sicilia 2017, giunto alla dodicesima edizione. La manifestazione avrà luogo dall'8 al 12 luglio nell'altro di Palazzo San Domenico. Buon pomeriggio ancora, bentrovati a MTG. Lo avete sentito dai titoli. Il sindaco di Ragusa, Federico Piccitto, ha diffidato l'Asp, l'azienda sanitaria provinciale di Ragusa, i vertici che hanno pubblicato un avviso di trasferimento del personale infermieristico del reparto di malattie infettive da Ragusa a Modica. Intanto è anche pronta la replica del manager dell'Asp 7, Maurizio Aricò. Sentiamo cosa ha detto nel servizio di Carmela Minardo. Sospendere l'immediato avviso di disponibilità al trasferimento da Ragusa a Modica del personale infermieristico di malattie infettive. La richiesta del sindaco Federico Piccitto è perentoria, tanto da avere anche diffidato la direzione generale dell'Asp 7. Il primo cittadino teme, ancora una volta come già accaduto, l'ennesimo colpo di mano con lo strano meccanismo degli avvisi volanti. Il primo cittadino chiede l'immediata sospensione del provvedimento. In caso contrario ricorrerà in tutte le sedi e con tutti i mezzi. Non convince il primo cittadino neanche la giustificazione addotta dai vertici dell'azienda sanitaria che parlano di provvedimento temporaneo per motivi tecnici. Nell'avviso, afferma Piccitto, di questa presunta temporaneità non c'è traccia. Pronta la replica del manager Aricò. Per sgomberare il campo da nubi, chiarisce, l'attività di malattie infettive sarà svolta dall'azienda in due strutture, una modica e una ragusa, esattamente come si è fatto finora. L'emergenza della carenza di personale, accentuata dal periodo estivo, verrà affrontata con provvedimenti straordinari di accorpamento e ridistribuzione del personale solo su base volontaria. Questo assetto avrà termine alla fine del periodo delle ferie estive, il 30 settembre 2017. La nuova allocazione della struttura di malattie infettive a Ragusa sarà valutata dal direttore delle due unità complesse Antonio Davi e dalla direzione aziendale che ne informerà compiutamente le organizzazioni sindacali e l'amministrazione cittadina per far sì che la soluzione scelta ottenga il massimo di condivisione e funzionalità per la popolazione. Di fatto, quindi, nessun trasferimento a modica di malattie infettive è in atto, conclude il manager Aricò. Adesso parliamo di cronaca con un 28enne pregiudicato catanese che accusato di violenza sessuale, rapine, lesioni aggravate è stato arrestato dalla squadra mobile di Catania. Il GIP ha convalidato il fermo in carcere. Il malvivente è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza che hanno monitorato i suoi movimenti. Va al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi centro a Catania esce, come potete notare dalle immagini del sistema di videosorveglianza del nosocomio, si arrampica su uno stabile rompendo il vetro di una finestra entra in un'abitazione violenta una donna, le rube pc, cellulare, portafoglio e se ne scappa. La squadra mobile di Catania è arrestato con l'accusa di violenza sessuale, rapine, lesioni aggravate, il 28enne pregiudicato Catanese Sebastiano Balsamo è intercettato il 5 giugno scorso in piazza Università. I fatti si sono verificati domenica 4 giugno. All'albe il pregiudicato è entrato il triaggio del Garibaldi come testimonio nelle immagini. Successivamente è stato individuato nel piazzale del nosocomio mentre usciva dal barco di Via Dolo. Ieri il GIP ha convalidato il fermo. Le immagini di altre telecamere hanno sorpreso il 28enne varcare l'ingresso di un cancello di uno stabile, arrampicarsi sulla parete dell'edificio e raggiungere una finestra. Dopo aver armeggiato per alcuni istanti è sceso e ha desistito dopo aver appurato che la finestra era protetta dalle sbarre. Poco dopo è tornato, dopo essersi arrampicato per la seconda volta sulla parete esterna, ha raggiunto un'altra finestra che è riuscito a infrangere. È entrato nell'abitazione, ha minacciato con un coltello la vittima e l'ha violentata mentre la donna ha tentato in vano di fare resistenza colpendo con un abaggiur il balordo. Dopo l'abuso il malvivente ha rubato pc, telefono cellulare della vittima e due portafogli. Dopo una decina di minuti circa lo stesso è stato visto uscire dal cancello dello stabile e darsi alla fuga con in mano alcuni oggetti. Dopo un giorno di ricerche in casa dei familiari nei luoghi frequentati dal malvivente, Balsamo è stato intercettato dalla squadra mobile nel centro di Catania. La vittima è stata visitata dai sanitari di turno che le hanno diagnosticato traumi e lesioni in diverse parti del corpo giudicate guaribili con una prognosi di 25 giorni. Il sopralluogo effettuato nell'abitazione ha permesso di acquisire elementi che hanno confermato la versione della donna. Il vetro della finestra del bagno frantumato in camera da letto non evidenti i segni della colluttazione della violenza. Sono state rinvenute e repertate numerose tracce di sangue e liquido seminale. Sono stati sequestrati un coltello a serramanico utilizzato per infrangere il vetro e minacciare la donna nelle fasi della violenza e una bagiurrotta indicata dalla vittima come oggetto con cui aveva tentato di difendersi colpendo più volte il malvivente. Il GIP ieri ha convalidato il fermo confermando l'accuso da cautelare nel carcere di Piazza Lanza a Catania. È già stato dimesso stamattina il ciclista travolto da un'auto nel tardo pomeriggio di ieri intorno alle 19 circa sulla cicli Dona Luccata incontrata genovese. L'uomo che è un dipendente comunale dopo l'impatto ha coinvolto anche l'amico ciclista che ha rimediato delle scoriazioni. La moglie del ferito in sella alla bici poco distante dal luogo del sinistro è rimasta illesa. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 che ha trasferito i due uomini al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica. Sul posto per i rilievi la polizia locale, i carabinieri. È scattato la notte scorsa il silenzio elettorale in vista della giornata di voto di domani per le amministrative. si vota in cinque comuni Iblei dalle 7 alle 23, poi al via allo spoglio. Dalla mezzanotte scorsa silenzio elettorale in vista del voto amministrativo in 1021 comuni italiani di cui 128 in Sicilia e solo 5 in provincia di Ragusa. Pozzallo, Santa Croce, Camerina, Chiaramonte e Gulfi, Gerratana, Monte Rossoalmo. Urne aperte domani dalle 7 alle 23, subito dopo lo spoglio delle schede. Risultati nella notte. Tra i comuni Iblei al voto solo Pozzallo supera i 15.000 abitanti ed è quindi l'unico in cui, se nessun candidato raggiungerà la soglia del 40%, sarà necessario ricorrere al ballottaggio il 25 giugno. Nei cinque centri gli elettori sono complessivamente 39.725, accorpati in 42 sezioni. Oltre ai rispettivi sindaci saranno eletti consiglieri comunali, 16 a Pozzallo, 12 negli altri enti. Gli elettori avranno una sola scheda per scegliere il primo cittadino ed una lista comprendente i candidati al Consiglio, sui quali possono apporre una o due preferenze. In quest'ultimo caso per candidati di diverso genere. È possibile scegliere un candidato sindaco ed una lista diversa da quelle a lui collegate. Numerose le novità legislative introdotte dalla legge regionale approvata ad agosto scorso e già sperimentate il 27 novembre a Scicli. Nei comuni, con più di 15.000 abitanti, scende dal 50% più 1 al 40% la soglia sufficiente per l'elezione dei sindaci al primo turno. Il secondo arrivato, purché con almeno il 20%, è eletto consigliere comunale. Inoltre torna l'effetto trascinamento che estenderà automaticamente al candidato sindaco il voto espresso ad una lista collegata. Premio di maggioranza alla coalizione vincente al primo turno solo se raggiungerà anch'essa il 40% in Consiglio e in caso di ballottaggio, solo se altra aggregazione non ha toccato quota 50. Nei comuni, con popolazione fino a 15.000 abitanti, sistema maggioritario ad un turno. Diventa sindaco il candidato più votato, la cui lista elegge i due terzi dei consiglieri, quali che sia il numero dei voti ottenuto. Chi non fosse in possesso del certificato necessario per esercitare il diritto di voto può rivolgersi all'ufficio elettorale del Comune. Il problema della crisi agricola e delle asse giudiziarie è stato dibattuto questa mattina nel corso di un consiglio comunale aperto che si è svolto nella sera di Piazza Gramsci a Vittoria. Gli esponenti dei movimenti che da mesi lottano per avere delle risposte da parte dello Stato e delle istituzioni oggi hanno avanzato precise richieste per risolvere la problematica che ha messo in ginocchio un intero settore. Tutti i dettagli nel servizio. Questa volta le istituzioni devono ascoltarci. È il momento di far sentire la nostra voce a tutela dell'intero territorio. È proprio questo il filo rosso che ha legato gli interventi di stamani nel corso del Consiglio Comunale Aperto e che si è tenuto nella serra allestita in Piazza Gramsci a Vittoria, dove da nove giorni Fabrizio Licitra sta attuando lo sciopero della fame contro la crisi agricola e le aste giudiziarie. Prima di lui Rosetta Piazza che ha dovuto sospendere la protesta per un malore. Il Movimento Riscatto Altra Agricoltura e Donne per l'Agricoltura da tempo lottano contro un sistema che non concede scampo. La crisi agricola è stata e rimane pesantissima. Le procedure di recupero crediti e le vendite all'asta dei beni spesso suonano come una profonda ingiustizia, ha affermato Ciaculli. La volontà di riaccendere l'attenzione sulle gravissime problematiche che affliggono la provincia di Ragusa e far sì che la classe politica dirigente modifichi l'articolo 164 bis sul prezzo di vendita all'asta che può scendere fino al 50% su insindacabile giudizio del giudice è troppo importante. Oggi una buona rappresentanza della deputazione eblea era presente, concordati alcuni punti di un documento che verrà poi approvato dal Consiglio Comunale di Vittoria con cui si impegna l'assessorato regionale all'agricoltura e il ministro a dare concrete risposte. Verrà chiesto anche l'apertura di un tavolo di confronto. Intanto Fabrizio Licitra che dal 2 giugno si trova nella sera di piazza Gramsci senza assumere cibo comincia ad accusare i primi mancamenti, afferma Maurizio Ciaculli, ma per ora sta bene. L'appuntamento di stamani ha dato la possibilità di comprendere qual è l'interesse reale del mondo politico e sociale per queste tematiche. E' stato sancito un accordo di collaborazione tra i comuni di Scicli e Ragusa per la redazione del piano di utilizzazione delle aree di preriserva della macchia di foresta Fiume Erminio. La firma è stata posta dall'assessore alla pianificazione del Comune di Scicli, Viviana Pitrolo, dall'assessore ai lavori pubblici del Comune di Ragusa, Salvatore Corallo. Intanto proprio lunedì prossimo il Comune di Scicli parteciperà al tavolo tecnico istituito dall'assessore regionale del territorio ambiente Maurizio Croce, finalizzato all'istituzione del Parco Nazionale dei Montiblei alla definizione dei suoi perimetri, ribadendo la ferma volontà politica già espressa dal Consiglio Comunale nel 2010 di fare rientrare parte del territorio scilitano all'interno dell'istituendo Parco, così come da perimetrazione proposta ed esclusa senza alcuna motivazione dall'allora Consiglio Provinciale di Ragusa. I recenti episodi che si sono verificati a Torino impongono la necessità di programmare e gestire in tutta sicurezza le pubbliche manifestazioni. Per te la ragione ieri è stato convocato in prefettura Ragusa il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine dunque di concordare gli interventi nell'ambito di alcune importanti manifestazioni sul territorio ebleo. Sentiamo cosa è emerso. Manifestazioni di alto profilo in totale sicurezza è l'obiettivo della prefetta Maria Carmela Librizi che ieri ha riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a cui hanno partecipato ai vertici delle forze dell'Ordine il sindaco Federico Piccito e il comandante della Polizia locale di Ragusa Giuseppe Puglisi per la predisposizione di adeguate misure di prevenzione e vigilanza connesse ai prossimi eventi che si svolgeranno a Ragusa. In particolare i dispositivi di sicurezza riguardano il Festival della tragedia greca la cui conferenza è stata aperta di ripomeriggio. Stasera e domani l'appuntamento è con un'opera di Eschilo e con una conversazione sulla tragedia 7 contro Tebe. A tutto volume dal 16 al 18 giugno, al Vittoria Jazz Festival dal 16 al 25 giugno sono gli altri due eventi al centro del piano della sicurezza. Per quest'ultimo spettacolo è previsto un altro incontro in prefettura a martedì 13 giugno. Queste le disposizioni. Adozione di mezzi di sbarramento per ostacolare l'accesso da parte di mezzi pesanti alle piazze, sede degli eventi. L'individuazione di vie di fuga con l'impiego di personale della protezione civile da dotare di strumenti sonori per eventuali comunicazioni ai partecipanti. Il sindaco di Ragusa, Federico Piccito, per evitare le polemiche che sono state sollevate nei confronti della prima cittadina di Torino che rappresenta il suo stesso partito, il Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino, a seguito dei disordini in piazza per la finale della Champions League, ha deciso di adottare un'ordinanza di divieto, di vendita in bottiglia di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro. La prefetta diramerà una circolare a tutti i sindaci dei comuni blei, informandoli della recente direttiva emanata dal Ministro dell'Interno connessa agli avanti per la prossima stagione estiva, che sarà oggetto di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, programmato per il 19 giugno. La cronaca ancora è stato arrestato ieri dai carabinieri della Compagnia di Vittoria, il 35enne gomisano Giovanni Bertino, l'uomo accusato di evasione dagli arresti domiciliari, è stato ristretto nella casa circondariale di Ragusa. Il 35enne in più occasioni non era stato trovato in casa, Bertino ha violato le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria anche ieri quando è stato notato nella strada antistante la sua abitazione. I militari dell'arma stanno continuando a indagare per accertare il motivo per il quale il 35enne si trovasse fuori dall'abitazione o se avesse appuntamento con qualcuno. I carabinieri in servizio di controllo in Borghese nei giorni scorsi a Ragusa hanno arrestato un 21enne ragusano, già noto i militari per essere stato segnalato quale assuntore di stupefacenti e qualche mese fa è sfuggito a un controllo qualche giorno prima. Il giovane fermato ieri ha tentato di direguarsi ma i militari sono riusciti a calmarlo e a controllarlo. Addosso aveva uno spinello di marijuana, sette involucri contenenti la marijuana, ben occultati negli slip per circa 10 grammi complessivi. Durante la perquisizione domiciliare è stata rinvenuta una piantina di marijuana che il giovane stava coltivando. Lo stupefacente alla piantina sono stati sequestrati, il 21enne è stato arrestato per detenzione di fine dello spaccio di sostanza stupefacente e sottoposto agli arresti domiciliari così come disposto dal sostituto procuratore di turno Giulia Bisello. Facciamo un flash, questo il nome del focus sull'autocontrollo e terapia organizzato questa mattina a Catania rivolto a pazienti con diabete e alle loro famiglie. Flash infatti è il nome di un sistema che permette di rilevare i valori di glicemia nel sangue senza fare più quelle fastidiose punture. Ce ne parla Sara Donzuso. Si chiama Flash ed è un sistema di monitoraggio della glicemia Freestyle Library che potrebbe essere prescritto e rimborsato al sistema sanitario regionale ad ampie categorie di pazienti, in primo luogo i diabetici di tipo 1, soprattutto bambini e ragazzi e chi deve fare una terapia insulinica multi-iniettiva. Questo sistema è stato presentato questa mattina durante un incontro molto partecipato per spiegare le varie lotte che soprattutto la Federazione Diabete Sicilia ha dovuto portare avanti affinché l'assessorato alla salute riconoscesse la valenza di questo prodotto. Questo tipo di strumento invece si prevede che possa essere utile per la quotidianità di tutti coloro che fanno trattamento insulinico anche in multi-iniettiva, cioè facendo più punture al giorno. Aiutano perché diminuiscono l'ansia, aiutano perché diminuiscono il dolore. Considerate che per avere un profilo puntuale dobbiamo fare almeno da 6 a 7 glicemia al giorno in un bambino. Io rappresento la pediatria quindi figuratevi che cosa significa? Dunque grazie a Flash si può presto dire addio alle dolorose e fastidiose punture al dito anche perché tale prodotto è inserito nell'EA i nuovi livelli essenziali di assistenza. La regione con oltre 300.000 diabetici è i primi posti in Italia per prevalenza della malattia. Noi come Federazione Diabete Sicilia abbiamo messo in campo le nostre energie da ogni parte della Sicilia per cercare di ottenere in frizione gratuita in convenzione questo dispositivo di ultima generazione tra l'altro che è molto attendibile e favorisce l'adozione di terapie, della modifica della terapia e di nuove terapie tra l'altro. Noi crediamo che anche in Sicilia questo dispositivo sarà disponibile e lo aspettiamo con ansia perché le famiglie senza questo dispositivo fanno veramente fatica ad andare avanti. È stata giudicata la ditta modicana Baglieri Giovanni Antonio la gara d'appalto per il completamento dell'impianto idrico a Modicalta. Lavori che sistemeranno una volta per tutte e l'annoso problema dell'approvvigionamento idrico per il popoloso quartiere storico. Il progetto per la realizzazione dell'impianto di approvvigionamento è stato approvato e finanziato più di 30 anni fa nel 1986 ed era articolato in due fasi. La prima di ricerche sotterranee mediante la rivelazione dei pozzi e la seconda che consisteva nell'esecuzione delle opere relativa agli impianti di sollevamento, le condotte forzate, le condotte di distribuzione. I lavori della prima fase sono stati ultimati nel 1997 e quelli della seconda fase nel 2006. Purtroppo nel progetto originario non era previsto il collegamento della rete realizzata con il serbatoio Chirichidi. Oltre al collegamento con tale serbatoio sarà necessario rimuovere tonnellate di materiali, realizzare la recensione e anche i cancelli di ingresso e pulire tutta l'area. Con questa notizia ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Ancora ben trovati in studio è stato presentato questa mattina nel chiostro di Santa Maria del Gesù a Modicalta il concorso internazionale Danza IBC Sicilia 2017 giunto alla dodicesima edizione. La manifestazione avrà luogo dall'8 al 12 luglio nell'atrio di Palazzo San Domenico, sede del comune di Modic. La direzione artistica è affidata al maestro Eugenie Stoiano, Catiuscia Carpentieri. Dall'8 al 12 luglio la danza ritorna protagonista nella città di Modica con la dodicesima edizione del concorso internazionale Danza IBC Sicilia 2017 nell'altro comunale di Palazzo San Domenico. Questa mattina l'evento è stato presentato in conferenza stampa e organizzato dall'associazione culturale CID di Modica con il patrocinio del comune. Il concorso è rivolto a danzatori dagli 11 ai 25 anni per le categorie giovani promesse, allievi, juniores e seniors, gruppi e duo sia di classica che di moderna. Il concorso inoltre prevede due fasi eliminatorie, la finale prevista per martedì 11 luglio e la grande chiusura il 12 luglio con il galà per le premiazioni. Il monte premi in denaro per questa edizione ammonta ad 8.000 euro oltre alla borsa di studio. A questo va sommato il premio speciale Patrick Latronica al momento di 700 euro. La direzione artistica è stata affidata al maestro Evgeni Stoiano, che punta ad incrementare gli scambi culturali per creare nuovi sblocchi per i giovani artisti tramite l'erogazione di borse di studio che permettono ai premiati di accedere a rinomate accademie di danza. Quello che vorrei sottolineare è la grande importanza che in questi anni ha avuto la cultura della danza che si è creata all'interno della città e della regione. Il nostro è un concorso di qualità, non è un concorso di massa, è un concorso che educa la bellezza, è un concorso che vuole andare oltre la gara. La gara di fatto è il mettersi a confronto con se stessi, di quello che sarà l'aspettando i BC Sicilia. C'è una serie di incontri che si terranno nel luogo del concorso e che daranno l'inizio di quello che è l'apice della nostra mini stagione all'interno del chiostro dell'atrio comunale. Le scorse edizioni hanno registrato la presenza di partecipanti provenienti dall'Italia, dal Giappone, dalla Russia, dalla Bulgaria, dal Cipro, Grecia, Albania, Repubblica Slovacca, Corea del Sud e ancora Montenegro, Turchia e Russia. Quest'anno la direzione artistica punta all'aumento dei partecipanti dell'area europea. Tra le tante sagre attese che vengono organizzate in Sicilia c'è quella di Maletto che è dedicata alla fragola. Lo dimostrano i migliaia di visitatori che ogni anno si recano nel borgo pedemontano per gustare le fragole e tutti i magnifici prodotti che da questi frutto si possono produrre. È l'edizione del 2017, la 32esima è stata proprio inaugurata ieri. Giunta alla 32esima edizione, la sagra della fragola di Maletto è un appuntamento imperdibile per gli amanti e lo gustoso frutto rosso, ma anche per chi desidera coniugare al gusto la storia di uno dei paesi più belli dell'Etna. Inaugurata ieri, la sagra permette ai visitatori di conoscere meglio la fragola, ma anche tutti i prodotti che con essa possono essere creati. Ci si perde tra marmellate, gelati, granite e mille altre bontà, tutte al sapore del frutto che ha reso famosa Maletto nel mondo. La fragola ormai viene abbinata a Maletto sicuramente, viene abbinata tra i prodotti di eccellenza del Parco dell'Etna, dei comuni facendo parte del Parco dell'Etna. Quando si parla di fragola e soprattutto fragola di Maletto si pensa più a un dolce perché io lo definirei proprio un dolce anziché una fragola, un semplice frutto. Siamo arrivati alla 32esima quest'anno, significa che si è speso molto in tutti questi anni e si è avuto anche un giusto riconoscimento inserendole fra le sagre più importanti della nostra regione. Una tre giorni ricca di appuntamenti, laboratori del gusto, spettacoli, visite guidate e poi domani la chiusura con la grandissima torta di cinque piani che verrà offerta ai circa 25.000 visitatori previsti per la giornata di chiusura. È stata una fortuna aver indovinato la formula giusta per questo tipo di pubblicità per il nostro prodotto che è un prodotto endemico nostro, molto antico e di una bontà inimitabile e unica. Per cui grazie a Dio abbiamo continuato questa tradizione e questo tipo di manifestazione che ha dato ottimi e eccellentissimi risultati, soprattutto per il produttore, aumentando soprattutto la valenza occupazionale che da noi, come sappiamo, in montagna è una cosa importante. Adesso ci sono tanti appuntamenti previsti per oggi. Nel pomeriggio a partire dalle 18.30, festa dell'Agesca, conclusione dell'anno scolastico. Le scuole cattoliche di Modica si incontreranno in piazza Matteotti per festeggiare con gli alunni. Alle 19 l'incontro su uomini e storie nella casa degli avi a Modicalta, organizzato da Ingegni Cultura, a seguire la visita nella chiesa di Sant'Antonio. L'iniziativa rientra nell'ambito dei festeggiamenti in onore del santo. Quinto raduno in 500 città della Contea di Modica. Domani in Viale Medaglie d'Oro alle 12.30, sfilata per le vie del centro e ritorno in Viale Medaglie d'Oro con la visita ai musei e ai monumenti. Nel pomeriggio poi la prima azione della Fiat 500 più originale e poi anche l'assegnazione del quinto trofeo al gruppo più numeroso. Sempre domani a partire dalle 9.30, Marina di Ragusa, decima posteggiata della salute con raduno in piazza Duca degli Abruzzi. L'iniziativa è stata organizzata dall'Associazione Italiana Assistenza e Diabetici di Ragusa. È davvero tutto per questa edizione. Mettigi torna alle 20.30. Grazie come sempre per averci seguiti e buon fine settimana. Grazie a tutti.